Una voce. La via della conoscenza attraverso Attilio M. Una voce. Affascinati dalla via della conoscenza temete inizialmente di essere privati di un contenuto concettuale che vi è molto caro e che è il tempo nel suo scorrere. È nel corso del tempo che si sviluppano i fatti, gli atti e gli incontri del quotidiano, cioè tutto quello che voi utilizzate per gestire il tempo in modo a voi confacente. È nel trascorrere del tempo che voi edificate progetti scommesse e mete ed è sempre nel tempo che costruite le relazioni e che le consolidate nel tentativo di tenerle in pugno. Quindi voi umani occupate gran parte del quotidiano progettando e dando solidità alle vostre conquiste, mai vivendo momento dopo momento la vita che presenta ciò che è effimero, nasce e muore, è sempre nuovo e va lasciato andare perché non si ripresenta. L'uomo che persegue i propri bisogni presenti e gli obiettivi futuri si crea l'idea che il tempo della vita sia in larga misura a sua disposizione e quindi mette il proprio marchio su tutti quegli avvenimenti che, lui dice, lo riguardano. Sono quelli che entrano nel suo campo d'azione e dei quali stabilisce importanza o trascurabilità, basandosi sui bisogni e sui desideri in cui si identifica, oppure sugli affetti di cui si circonda. Ad esempio, nel vivere il quotidiano voi siete abituati a spostare l'attenzione e l'emotività su un evento oppure un incontro che è stato programmato diverse ore più tardi, in quanto lo considerate importante e gradito ed intanto continuate a svolgere con scarso interesse o addirittura con fastidio quegli atti che lo precedono e che spesso diventano azioni automatiche. Per esempio, nel caso di un piacevole incontro previsto verso sera, voi siete capaci di non vivere in maniera consapevole atti e situazioni che lo precedono. I pensieri e le emotività si fissano su ciò che vi attira e così non ponete attenzione sui fatti e sugli atti che si succedono lungo quel tempo intermedio. Questo è quel processo mentale che vi permette di collocarvi fuori dal tempo della vita e di crearvi un tempo vostro alternativo con cui usufruire del tempo che scorre oltre le strutture della vostra mente. Continua